L'ultima edizione di Amici 23 ha riscosso un grande successo tra il pubblico, soprattutto per la presenza di storie d'amore che hanno appassionato i telespettatori. I concorrenti hanno trascorso molto tempo insieme nella casetta, creando legami profondi che hanno portato alla nascita di amicizie e relazioni romantiche. Quest'anno è stato particolarmente ricco di storie d'amore. Molti giovani hanno trovato l'amore all'interno della scuola. E alcune coppie continuano a stare insieme anche dopo la fine del programma. Tra queste, spiccano Mew e Matthew, che hanno scelto di rimanere uniti anche fuori dalla trasmissione. Anche Petit e Marisol hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza. Tuttavia, non tutte le storie hanno avuto un lieto fine, come nel caso di Mida e Gaia. Per Sara e Holden, invece, si continua a parlare di una possibile storia d'amore ancora non confermata ufficialmente. Amici 23. Nuove indiscrezioni su Sara e Holden, e un altro scoop su Mida e Gaia. Recentemente si è parlato di un possibile incontro segreto tra Sara e Holden, con voci che suggeriscono una relazione nascosta. Sebbene entrambi abbiano negato qualsiasi coinvolgimento romantico, i fan avevano notato una connessione speciale tra di loro. Il gossip ha ipotizzato che i due potessero addirittura essere fidanzati. Ma al momento non ci sono conferme ufficiali. È probabile che preferiscano mantenere un profilo basso. Nel frattempo, un altro scoop riguarda Mida e Gaia. I due sono stati avvistati insieme mentre passeggiavano sul lungomare di Castellammare, in Campania, la regione di origine di Gaia. Questa apparizione inaspettata ha suscitato speculazioni su un possibile riavvicinamento, soprattutto considerando che Mida aveva dichiarato di voler dedicarsi alla musica e si era allontanato da Gaia durante le ultime puntate di Amici 23. Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali riguardo a una riconciliazione, le recenti apparizioni pubbliche dei due suggeriscono che potrebbe esserci qualcosa di nuovo tra loro. L'esperta di gossip di Yanira Marzano, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto sgranata che mostra due figure che potrebbero essere Mida e Gaia, alimentando ulteriormente le speculazioni.